Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola aggiornato alle 15 di ieri in merito all'emergenza coronavirus così come comunicato dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 103.134 più 731 rispetto all'altro ieri su 92.609 persone. Di queste sono risultate positive 3.339 più 12 mentre attualmente sono ancora contagiate 2.062 persone meno 7.020 sono le persone guarite con un aumento di 18 persone e 257 le persone decedute un soltanto una persona deceduta nella giornata di ieri. Degli attuali 2.062 positivi 287 pazienti sono ricoverati di cui 16 in terapia intensiva mentre 1.775 sono in isolamento domiciliare. Questa è la divisione degli attuali positivi nelle varie province. Agrigento 67, nessun ricoverato, 69 guariti e un deceduto, Caltani 7.98, Catania 6.98, Enna 246, Messina 354, Palermo 386, Ragusa 37, Siracusa 109, Trapani 67. Il prossimo aggiornamento verrà stasera, lo comunica la presidenza della regione siciliana.